State forse cercando un posto che vi permetta di evadere dal caos della vita cittadina? Un posto dove poter vivere tranquillamente immersi nella natura e circondati dalla storia? Sappiate che quel posto non è una pavola, esiste, e si trova tra le colline metallifere nel cuore della Toscana, sulla costa tirrenica. Quel posto si chiama Suvereto. Un'autentica oasi di pace e della Toscana, elencato tra i borghi più belli di tutta Italia. Suvereto vi offrirà tanto da vedere e tanto da scoprire. Storia, arte, cultura. La chiesa di San Giusto è un perfetto esempio di chiesa romanica, una delle più belle e meraviglie religiose di Suvereto. Non da meno, la chiesa della Madonna sopra la porta offre uno spettacolo artistico senza precedenti. Grazie ai suoi meravigliosi affreschi, Suvereto ospita anche numerosi edifici storici, oltre a chiese, parrocchie e chiostri. Soprattutto quello che è considerato il gioiello di questo paesino, la Rocca Aldobrandesca, costruita dagli aldobrandeschi durante il Medioevo per pesidiare i loro confini. Ristrutturata nel corso degli anni, la Rocca ha recentemente inaugurato un museo al suo interno, che permette a chiunque lo desideri di scoprire di più sul passato di Suvereto. Non abbiate timore a raggiungerci, anche se siete lontani. Siamo solo a un'ora di treno da Pisa e a una ventina di minuti di macchina dalla stazione di Campiglia.